Il denaro era occultato nei bagagli a mano, tant'è vero che soggetti dediti a viaggi molto frequenti in Nigeria, si parla di cadenze di 3-4 volte al mese, due soggetti, quindi rendetevi conto la moltiplicazione di quello che può essere per 2-3 mesi di indagine. Ripulivano così il denaro provento dell'attività di spaccio nella piazza valdarnese, trasferendolo all'estero. Nel mirino delle fiamme gialle di San Giovanni Valdarno adesso sono finite 8 persone, cittadini di origine nigeriana e albanese, tutti residenti a Montevarchi. Siamo riusciti a ricostruire l'operato di un sodalizio dove a diverso titolo 8 persone facevano parte di una rete di approvvigionamento e spaccio, spaccio che andava direttamente a finire nel centro storico di Montevarchi. La cosa particolare di questa indagine che lascia uno spaccato relativamente importante nell'attività delle forze di polizia sul territorio valdarnese è che abbiamo visto la convivenza di spacciatori o comunque reti di spaccio sia di etnia nigeriana sia di etnia albanese. In un contesto comunque teso quale determinate re valdarnesi, vedere una sorta di collaborazione e di sostanziale divisione del mercato, delle sostanze stupefacenti ci è servito anche per capire e dare degli spunti a successive indagini per scoprire i collegamenti tra i vari soggetti. I finanzieri hanno poi deciso di seguire anche i movimenti di denaro effettuati in particolare da due persone che si occupavano di trasferire gli incassi del tutto illeciti in Nigeria. Le banconote da 150 euro venivano infatti nascoste in doppi fondi ricavati nei bagagli a mano dei due trafficanti. Erano soliti muovere tramite carte di credito, postpay e altre tipologie di canali telematici quantitativi importanti di soldi. Tant'è vero che in due mesi di lavoro, grazie anche ai colleghi di Malpensa appositamente attivati per fare i riscontri sui soggetti in uscita verso la Nigeria, siamo riusciti ad accertare per il solo reato di riciclaggio oltre 60.000 euro e a sequestrare i fini valutari oltre 10.000 euro di capitale illecita. Nel corso dell'operazione Sherwood che si è conclusa con un arresto e 7 segnalazioni, le fiamme gialle infine hanno sequestrato oltre 100 grammi di eroina ed altre sostanze stupefacenti. Nell'ambito di un'attività di perquisizione abbiamo anche rinvenuto orologi contraffatti e monilidoro ricettati, verosimilmente frutto di furti o scippi o altre attività criminose, tra l'altro in capo a uno spacciatore arrestato, tradotto in carcere e già processato nel merito. Le indagini proseguono per seguire i flussi di capitali e cercare di meglio monitorare l'uscita al territorio nazionale oltre che di risalire nella filiera dello spaccio.